È stata una bella vittoria, siamo contenti, ma secondo me è una vittoria più che meritata perché la prima ora abbiamo giocato veramente benissimo, infatti siamo andati 4-0, 4-1, 5-1. Poi dopo siamo calati leggermente, abbiamo sbagliato qualche pallone lì in mezzo decisivo, siamo andati, non so, ma penso 2-3 giochi, 40-15 per noi, poi 40 pari a seconda volta li hanno sempre fatti loro e contro una squadra del genere non ti puoi permettere queste cose. Quando siamo andati 6-5 per loro avevo un po' di timore, pensavo qua, voilà, sono passati davanti, prendono fiducia e non ce n'è più, invece sono stati bravi, abbiamo avuto una bella reazione e l'abbiamo portata a casa, siamo molto contenti. Sì, abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, sono stati bravi loro, hanno fatto dei palloni, noi abbiamo comunque fatto degli errori anche su palle belle, quindi abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo, poi abbiamo, per virgolette, sprecato tante energie a recuperarli e poi quando sembrava il momento di staccarli ci siamo fatti riprendersi al passare alla parte infinita. C'era molto caldo, adesso sono bello colto, la partita è durata tanto lo stesso, comunque, niente, adesso giochiamo giovedì a canale contro Uparussa, sarà un'altra bella partita.